carissimi fratelli e sorelle buonasera entro in punta di piedi nelle vostre case ma come vedete questa sera trasmetto da un luogo familiare a tutti quanti un luogo che non manca in nessuna casa la cucina perché sto facendo questo perché vorrei sottolineare che oggi più che mai dobbiamo comprendere che le nostre case sono chiese domestiche e qualunque luogo è un luogo nel quale non solo incontrare gli altri ma è un luogo nel quale possiamo incontrare il Signore. Ieri sera con un messaggio a tutta la diocesi davo le disposizioni per la settimana santa. Sono disposizione perfettamente in linea con quanto la santa sede attraverso la congregazione per il culto divino un organismo che si occupa della liturgia e la conferenza episcopale italiana ha prescritto per tutte le diocesi in questo tempo di coronavirus. Purtroppo quest'anno non sarà possibile celebrare la settimana santa nel modo consueto non sarà possibile entrare nelle nostre parrocchie per celebrare la commemorazione dell'ingresso a Gesù in Gerusalemme e la santa messa la domenica delle palme o la messa crismale che è la manifestazione più grande più bella della liturgia durante l'anno la messa crismale nella quale vengono consacrati il crisma i benedetti l'olio dei catecumeni e degli infermi. Non sarà possibile la messa nella cena del Signore e poi ecco la partecipazione alla adorazione davanti al repositorio dove Gesù e Eucaristia vivo e vero viene riposto la sera del giovedì santo. Non ci sarà neppure la liturgia della passione il venerdì santo la veglia pasquale le messe o meglio ci saranno ma le celebreranno il vostro vescovo e i vostri sacerdoti nelle chiese a porte chiuse non perché non si voglia la gente lo sapete bene ma perché vogliamo fermare con tutte le nostre forze con le forze spirituali ma anche con quelle della responsabilità che ci chiede di fare delle scelte doverose e difficili vogliamo fermare la pandemia restando a casa. Celebreremo la Pasqua restando a casa. Sarà possibile e voi conoscerete gli orari o già li conoscete attraverso la pagina facebook della diocesi o il suo sito o quello delle vostre parrocchie conoscerete gli orari delle celebrazioni ma sarà molto importante non fermarsi a quelle celebrazioni ma pregare insieme in famiglia. Quanto sarebbe bello in questo momento che i laici battezzati che lo ricordiamo in modo particolare nella messa crismale hanno ricevuto da dio il dono del sacerdozio lo esercitano questo sacerdozio nella preghiera comune. Come voi mi direte non è forse il vescovo sacerdote don nicola don francesco don michele noi abbiamo un sacerdozio ministeriale e tutti i battezzati hanno il sacerdozio dei fedeli. La sacra scrittura chiama il popolo cristiano popolo sacerdotale regale e profetico perché nel giorno del battesimo noi riceviamo il dono di poter offrire a dio sacrifici. Non sono i sacrifici che offrivano nei templi gli ebrei nel tempio di gerusalemme scusate gli ebrei non è neppure il sacrificio che noi celebriamo nell'eucaristia ma il sacrificio dell'eucaristia ci abilita dice il concilio e ci aiuta ad offrire la nostra stessa vita come un sacrificio vivente gradito al signore. Quale sarà l'altare sul quale celebreremo questa Pasqua sarà l'altare del nostro cuore? Quale sarà l'ambiente che diventa più che mai sacro? È quello delle nostre case. Per favore non siate malinconici non siate lì a piangere quest'anno non ci sarà questo quest'anno non ci sarà quest'altro non ci sarà questa celebrazione non ci sarà questa processione. Viviamo questo sì con un velo di tristezza ma anche con la serenità e la certezza che dio non ci abbandona e dio ci invita a celebrare i santi misteri ugualmente perché vedete chi non vuol pregare non prega anche quando si fanno le celebrazioni in chiesa o sfilano le processioni per le nostre strade principali. Quante volte vedo che al momento in cui sta passando l'immagine magari ecco della vergine addolorata o del Cristo morto delle persone sono da poco uscite da un bar perdendo forse anche il senso del digiuno del venerdì santo. No cari fratelli e sorelle questo diventa un momento di verità un momento nel quale noi comprendiamo che la fede non la devono celebrare gli altri per noi la fede la dobbiamo vivere noi e la celebrazione è qualcosa che parte da noi stessi non un rito a cui assistere ma una preghiera da sentire profondamente è per questo che vi dicevo vi ho accolto nella mia cucina tempo fa nel nostro primo incontro vi avevo invitato a preparare un angolo di preghiera e credo che l'angolo di preghiera debba essere preparato proprio in una cucina e vedete se noi ci pensiamo bene la cucina è un luogo che dice il senso di una famiglia perché vedete se nelle nostre case non ci fosse la cucina esse sarebbero un dormitorio un albergo nel quale una persona va riposa ecco va ai servizi ma non condivide niente con gli altri la cucina possiamo dire è un luogo ricchissimo di umanità e di familiarità e il luogo dove si preparano i cibi e non li prepara uno chef o un cuoco che magari può preparare delle pietanze prelibate no il cibo delle nostre case ha un suo sapore un suo odore che sa di famiglia alle sue tradizioni e il luogo dove si mangia insieme non una mensa aziendale dove si consumano i pasti o un ristorante dove ognuno va e mangia con il gruppetto delle persone che ha scelto no a casa si mangia insieme e quella condivisione è molto importante e anche se si mangia da soli la persona vedova la persona che ha perso un altro caro sente che quella sedia è vuota ma quella sedia vuota richiama affetti richiama una presenza che nel mistero della fede noi sentiamo che continua e la cucina è il luogo dove si condivide la vita tante volte ecco c'è una cucina e un cucinino c'è una cucina e un tinello con un tavolo magari con anche un divano una televisione è il luogo dove più si vive non avete mai provato voi cari genitori che i vostri bambini anche se hanno una stanzetta preferiscono magari fare i compiti sul tavolo della cucina perché lo sentono un luogo più familiare li sentono più vicini questo è molto bello e ce lo dobbiamo dire in questo momento ecco la domenica compro sempre un giornale che mi piace per il suo inserto culturale il sole 24 ore che la domenica ecco riporta pagine di letteratura di arte di cultura in generale e oggi mi ha stupito vedere che nella prima pagina fulvio irace scriveva tutti a casa a studiare le sedie stavo preparando questo incontro e colpito da questo titolo sono andato a leggermi l'articolo quante volte a giorno e soprattutto in questi giorni in cui è necessario restare in casa ci sediamo per riposare studiare leggere e mangiare ma quanta attenzione dedichiamo alla sedia in cui cui affidiamo automaticamente il nostro corpo eppure tra tutti i mobili che ci circondano la sedia è quella più vicina a noi e non ci avevo mai pensato quella che meglio rispecchia la nostra anatomia come noi la sedia alle gambe alle braccia e uno per sostenere per sostenere il busto e la testa possiamo dire che è fatta perché ci si segga una persona ecco non si può sedere un cagnolino un gatto certo può riposare ma la sedia è fatta per sostenere il corpo di una persona con le sue gambe con il suo busto con i suoi braccioli magari e mi è piaciuto scoprire che c'è un museo in germania nel quale sono raccolti 1740 modelli di sedia che coprono l'arco di circa 240 anni al di là di questa dissertazione culturale sulla sedia su questo giornale domenicale voglio invitarvi a pensare ecco al tavolo e alle sedie come al luogo dove ritrovarvi e al luogo accanto al quale costruire in questi giorni una sorta di presepe pasquale vedete noi facciamo il presepe per un'antica tradizione per sentire vicino nelle nostre case il mistero del verbo di dio che si è fatto carne gesù bambino maria e giuseppe e poi tanti personaggi ma sapete l'essenziale è la sacra famiglia così si riduca all'essenziale quasi un presepe pasquale in questi giorni in cui a partire da domenica delle palme cominceremo la settimana santa io l'ho allestito qui nella cucina cosa ci ho messo ci ho messo anzitutto una croce può esserci nelle vostre case un crocifisso oppure oggi basta prendere una semplice immagine del signore gesù della sua passione ecco e metterla al centro non vi preoccupate di mettere immagini artistiche nelle vostre case le immagini più semplici e più povere sono e più ci parlano della sincerità della nostra fede poi un'immagine della madonna che mi è stata regalata e qui la bibbia aperta se non avete la bibbia credo che nessuna casa manchi e non deve mancare il vangelo ricordo alcune settimane fa che ne ho regalati tanti ai ragazzi della parrocchia dell'addolorata ma poi ho messo un segno particolare che vorrei che da domenica prossima la domenica delle palme non mancasse in nessuna delle vostre case e sono delle uova guardate le uova hanno un significato pasquale non semplicemente perché le troviamo sui bigliettini augurali ma perché nella tradizione ebraica e cristiana richiamano proprio la vita lo sbocciare della vita e avere queste uova fa sì che non manchino nel nostro presepe pasquale significa creare un ponte fra la domenica delle palme e la domenica di pasqua tenetele lì queste uova e poi il giorno di pasqua regalatele a qualcuno a qualche persona vicina a qualche persona povera a qualche persona alla quale volete dire ecco la rinascita di un affetto delle uova mia nonna diceva mettendo un uovo sodo a tavola come antipasto il giorno di pasqua se non c'è il segno dell'uovo ecco non si sente la pasqua non è pasqua e questa frase a sua volta l'aveva sentita dire da sua madre vedete la tradizione che anche nel cibo ci dice un significato religioso forse i nostri antenati sapevano vivere più la dimensione della chiesa domestica ma voglio prendere in mano la parola di dio e dirvi un'altra cosa molto importante non vorrei che in questi giorni noi dimenticassimo che ci sono tanti cristiani che hanno dovuto passare non una o due pasque ma forse tutte le pasque della loro vita o la stragrande maggioranza di esse senza poter andare in chiesa sono stati cristiani perseguitati o quelli che lo sono ancora ricordo sempre la testimonianza di un missionario in cina che diceva che celebrava la messa alle due di notte perché non era possibile a lui sacerdote poter celebrare il culto nel periodo in cui non c'era assolutamente libertà religiosa e penso a come hanno vissuto la pasqua durante la rivoluzione francese durante il periodo in cui c'era l'ateismo di stato nell'unione sovietica o addirittura nella più vicina albania dove la fede è stata conservata come ecco un fuoco che covava sotto la cenere come vivono la pasqua i nostri fratelli che fuggiti profughi dalle guerre stanno in grandi accampamenti o come la vivono quelle persone che pur avendo una grande fede non possono assolutamente manifestarla o ricevere l'eucarestia o incontrare un sacerdote perché è molto lontano dalla loro casa abbiamo recentemente sentito parlare delle popolazioni dell'amazzonia e ce ne sono anche tante in africa che vedono i sacerdote una volta all'anno e non certo il giorno di pasqua eppure la pasqua la celebrano allora in questo momento rendiamoci conto che su tutta la faccia della terra i cattolici la pasqua la celebrano ma in maniera uguale perché celebrano il mistero di cristo morto e risorto per noi ma diversa perché non tutti possono godere della ricchezza che noi abbiamo e oggi che questa ricchezza di tradizione c'è stata spero solo per un momento tolta vorrei che l'apprezzassimo di più allo stesso tempo comprendessimo di più anche gli altri l'ultima cosa che voglio dirvi nasce proprio dalla parola di dio ed è la più importante perché la pasqua è nata come una celebrazione familiare se noi andiamo a prendere il libro dell'esodo vediamo che il signore dice a mosè dopo le nove piaghe d'egitto prima di annunciargli la decima la morte dei primogeniti di preparare la pasqua gli dà le indicazioni per preparare la pasqua il signore disse a mosè ad aronne in terra d'egitto questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi sarà per voi il primo mese dell'anno parlate a tutta la comunità di israele dite il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia un agnello per casa se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello si unerà al vicino il più prossimo alla sua casa secondo il numero delle persone calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne il vostro agnello sia senza difetto maschio nato nell'anno poi dice come bisogna mangiare questo agnello non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua ma solo arrostito al fuoco con la testa le zampe le viscere non ne dovete far avanzare e poi col sangue dell'agnello vengono unti gli stipiti delle porte questo accade il giorno in cui il popolo di israele viene liberato dalla schiavitù degli egiziani mentre il popolo egiziano subisce la decima piaga quella della morte dei primogeniti la più terribile ma sentite cosa dice mosè quando sarete entrati nella terra che il signore vi darà come ha promesso osserverete questo rito quando i vostri figli vi chiederanno che significato ha per voi questo rito voi direte loro è il sacrificio della pasqua per il signore il quale è passato oltre le case degli israeliti in egitto quando colpì l'egitto e salvò le vostre case vedete mosè dice al popolo che questa liturgia dovrà continuare quando saranno entrati nella terra promessa e i bambini chiederanno ma che significa questo rito e ancora oggi nella liturgia degli ebrei i bambini hanno un posto molto importante perché i genitori si preoccupano di trasmettere ai loro figli questo rito il rito più importante il rito della pasqua la festa della liberazione la festa che li ha fatto popolo che significato ha questo rito e ancora oggi ecco la cerimonia inizia con il ringraziamento del signore la notte di pasqua nelle famiglie ebree ognuno ha il suo bicchiere se ne riempie anche uno per il profeta elia legato alla redenzione del popolo ci si lava le mani e quindi ognuno intinge nell'aceto il sedano amaro come le lacrime che il popolo ha versato durante la schiavitù ecco non mi soffermo ancora però vedete il bambino chiede come perché intingiamo la verdura il sedano due volte nell'aceto perché risponde il papà una in ricordo della tonaca di giuseppe il patriarca intinta nel sangue prima di essere portato a giacobbe la seconda il ricordo di aver intinto nel sangue per segnare le porte della casa ebraica perché questa sera si mangia solo agnello perché così è prescritto dalla torà che prescrive di mangiare l'agnello perché mangiamo erbe amare in ricordo della sofferenza vedete questi perché dei bambini e allora prepariamo già la domenica delle palme domenica delle palme io sarò ancora qui con voi alle 18 a parlarvi degli altri giorni della settimana santa ma ve ne accenerò già nella catechesi di mercoledì però preparate così la il pranzo di domenica prossima domenica delle palme mettete ecco ad un angolo della vostra cucina il crocifisso l'immagine della vergine vi ripeto non pensate a cose importanti ma cose semplici quelle che abbiamo nelle nostre case non mancano le immagini sacre le uova che dicono che ecco camminiamo verso la vita e che diventeranno il segno di condivisione con i nostri fratelli più poveri ecco un fiore e poi se riusciamo a procurarci una palma di olivo e prima del pranzo dieci minuti prima un quarto d'ora o per tempo in modo tale che la mamma abbia il tempo di preparare o la mattina dopo aver seguito la messa in televisione ecco il figlio può chiedere papà mamma cosa stiamo celebrando oggi celebriamo l'ingresso solenne di gesù a gerusalemme si prende il brano del vangelo lo si legge e poi si può leggere un passaggio della passione del signore che può essere suddiviso in tutta la settimana ecco un episodio il lunedì un episodio il martedì e così via sarà una cosa bella leggere la parola di dio e poi pregare o con un salmo oppure dicendo un padre nostro per tutte le persone della famiglia un padre nostro per le persone a cui vogliamo essere vicine soprattutto gli ammalati e i nostri parenti più lontani e poi una preghiera anche con i nostri defunti per i nostri defunti che nel mistero della comunione dei santi sono accanto a noi non è una maniera bella di riscoprire che le nostre case sono chiese domestiche e allora coraggio proiettiamoci verso la settimana santa ricordiamoci quello che gli apostoli dicono a gesù dove vuoi che prepariamo la pasqua e gesù sembra risponderci preparatela nelle vostre case preparate i vostri cuori preparate un luogo nel quale la famiglia nella cucina il luogo del cibo che ci nutre delle relazioni che ci nutrono forse più del cibo possiamo incontrarci a pregare buon cammino verso la settimana santa e questa sera vogliamo dire un padre nostro per tutte le famiglie della nostra diocesi un ave maria ancora una volta per tutti gli ammalati un eterno riposo per le persone che sono morte in questi giorni è un pensiero grato al papa che questa settimana venerdì ci ha donato un bellissimo momento di riflessione e di preghiera nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen per tutte le persone care per le persone con le quali ci vorremmo riconciliare per quelle che sono lontane padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male per gli ammalati che stiamo affidando alla madonna di ripalta ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen per i defunti di coronavirus di questi giorni e per i defunti che non hanno potuto avere il conforto dei loro cari accanto al loro capezzale l'eterno riposo dona loro signore e splenda per essi la luce perpetua ripossino in pace amen vi do appuntamento per gli altri incontri di questa settimana a partire da martedì giovedì è la festa di san francesco da paola patrono di stornarella e carapelle celebrerò da teledeon proprio per essere vicino a questi due paesi che celebrano il loro santo patrono in una maniera così particolare quest'anno continuiamo a vederci continuiamo a pregare ma ricordiamoci continuiamo a rendere chiese domestiche le nostre case voi genitori avete in questo una bella responsabilità sulla pagina facebook della diocesi e sul sito troverete anche dei suggerimenti da parte di alcuni sacerdoti per come vivere al meglio questi giorni su tutti voi la mia benedizione e la raccomandazione di rimanere a casa il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il nostro aiuto è nel nome del signore e scenda su voi tutti la benedizione di dio che è padre figlio e spirito santo buona serata e buona settimana grazie